www.marizopoli.it, dal primo di ottobre parte la nuova Sabatini capitalizzazione. È una misura avvolta per le micro e piccole e medie imprese, è un contributo a maggiorato a fronte di investimenti, macchinari, attrezzature, hardware, software, tecnologie digitali, impianti, beni strumentali di impresa. 5% per le micro e piccole imprese di contributo, 3,575% per le medie imprese. Dal primo di ottobre la dotazione finanziaria è di circa 80 milioni di euro, c'è la procedura esatta, cosa si intende per capitalizzazione delle imprese, le caratteristiche del momento del capitale sociale, le modalità, vi riporto il link, interessante per le imprese ma bisogna seguire passo passo per la concessione del contributo le modalità operative che vi riporto nel link qui alla fine del video. Quindi Sabatini capitalizzazione, molto interessante, alla prossima!